Alice Cama, numero 9 dell'ACF Milan, oggi primo gol, un bellissimo gol, tra l'altro secondo gol personale. Alice, a questo punto gli obiettivi si stanno realizzando, cioè questa Serie A comincia a avvicinarsi? Sembra di sì, piano piano ci stiamo avvicinando al traguardo che vogliamo raggiungere. Voi siete partiti proprio con la volontà di giocare? Certo, il nostro obiettivo è questo qua, di andare in Serie A, perciò spero di riuscirci. Comunque i risultati si vedono, anche grazie a questa allenatrice molto brava, esperta. Adesso ti faccio una domanda, tu gioco il primo anno col Milan? No, no, io ho già dieci anni che gioco col Milan. Quindi l'anno scorso siete in retrocessi? Sì, sì, vabbè ci sono stati tanti infortuni, hanno giocato molte ragazze giovani, abbiamo avuto un po' di problemi, però penso che quest'anno ci rifaremo alla grande. Bocca al lupo! Crepi, salve! Posto?